Ciao ragazze, questo è il video mensile in collaborazione con Wake Up With Julie, di cui vi metto il link qui sotto e anche nell'info box. Dovrò rispondere a 18 domande e quindi inizio. Allora, canzone del mese. È una strumentale che non ha titolo perché la senti sul sito, si poteva fare il download e quindi l'ho scaricata. Ma ve ne metto un pezzo quando metterò le foto del mese, metterò questa canzone in sottofondo così potrete sentirla. Poi due, profumo. Io direi, sì, il solito, che è sempre questo qui, stradetto in tutti i video, dice l'è per tutti i mesi, quindi sempre questo qua. Film preferito del mese? Nessuno, sarà banale qui, perché ho predili... Prediligere o predile... prediletto? A nessuno? Perché ho prediletto le serie televisive. Anzi, se vi fa di vedere un video in cui vi parlo comunque delle serie televisive che io guardo di più, scrivetemelo nei commenti, perché mi piacerebbe molto farlo. Però chiedo sempre a voi prima. Quattro, accessorio preferito del mese. Allora, come avrete visto nel videotag di cosa c'è nella mia borsa, avevo rotto gli occhiali. Cioè, li avevo trovati rotti. E quindi, che cosa ho fatto? Li ho prontamente ricomprati, però stavolta, per evitare altre cose, altri spiacevoli incidenti, ne ho comprati due paglia. Quindi questo e questo, si sono abbastanza simili, entrambi 3 euro dai cinesi, e quindi sono questi. Questo è il primo. E poi c'è questo qui che ha una forma leggermente più arrotondata e più a mosca. Mi fa gli occhi... cioè, mi fa... la faccia è piccolissima, sono enormi. Però io amo gli occhiali enormi, quindi... cioè, altrimenti non li prendevo. Poi, andando avanti... 5. Prodotto preferito del mese. Non è una cosa di... cioè, non è un prodotto vero e proprio, ma è proprio uno strumento. Ed è questa spugnetta per l'applicazione dei prodotti in crema, quindi fondotinta, correttore, eccetera. Ed è di Kiko. Ho utilizzato molto spesso questa per applicare il fondotinta, perché facendo un po' più caldo, mi permetto l'applicazione comunque coprente, ma prendendo sempre meno prodotto, quindi appesantendo meno la pelle. Quindi questa è costata pure 3,90 euro, non so se la trovate ancora. Comunque, una spugnetta... una spugnetta qualsiasi potete... potete trovarla dappertutto. 6. Indumento preferito del mese. Ho indossato molto spesso questa maglietta che... anche... togliamo tutto l'ambaradam prima, scusate. Quindi gli occhiali... ho utilizzato moltissimo questa maglietta. Vi faccio vedere. Questa maglietta qui, che praticamente è a sfondo bianco, dietro è semplicissima, lo scollo è molto largo, a barca. Ha le maniche a tre quarti, però sul davanti la adoro proprio perché ha questa stampa, ve l'abbicino un attimo. Tutta con fiori e... cioè... sui toni del rosa, borgogna, un pizzico di verde e un pizzico di dorato, insomma. E mi piace veramente un sacco perché quando non so cosa mettermi sopra, metto questa e sto a posto. Perché è semplice ma colorata allo stesso tempo. Sette, scuola barra lavoro. Ancora nulla, però ho delle collaborazioni in corso, sempre su YouTube. Però ve ne parlerò nella prossima live che farò. E credo che sarà domenica, non so quando vedrete questo video, ma... Comunque vi avvertirò su Facebook. Anzi, se non siete iscritti alla mia pagina Facebook, Sibrio, dimmi... Ok? Se non siete iscritti alla mia pagina Facebook, andateci subito perché lì metto tutti, tutti gli aggiornamenti di quando faccio le live, di quando ci sarà un prossimo video. Quindi lì saprete tutto. E se non volete perdervi le prossime live, appunto, sintonizzatevi là. Cibo del mese. Non ne ho nessuno in particolare, però ho iniziato a mangiare sano, quindi ho escluso la Nutella dalla mia alimentazione. Cioè, un baratto... Poi mio padre, quando decido di mangiare sano, mi compra la cioccolata, la Nutella, i cioccolatini, tutto quello che può essere schifezza. E così ho dovuto lasciarla stare, ma sono sicura che cederò perché mi conosco. Però finché ce la faccio, resisto. Comunque, in generale, sto mangiando sano, anche perché con la bella stagione mi piace più rimettermi in forma. Anche perché devo mettermi in forma in vista dell'estate, perché altrimenti al mare non ci vado nemmeno quest'anno. Scarpe del mese sono queste qui. Ve ne faccio vedere una... è meravigliosa. Ne parlai già sul mio vecchio blog, ma ne aprirò un nuovo, credo, solo inerente a YouTube. Quindi sono queste. Meravigliose. Sono di un verde acqua stupendo. Credo che ve ne ha già parlato in un... ce n'è per tutti i mesi passato, ma comunque le rimetto perché le sto usando un sacco. Sono verde acqua e hanno tutti questi dettagli dorati. Sul lato hanno le borchette, borchette tonde. Invece dall'altro sono fatte in modo semplicissimo. Hanno la suola di gomma. Sono molto, molto comode. E con un outfit semplice, maglietta bianca e pantaloncino, mettete queste e siete proprio... avete fatto un outfit carinissimo. 10. Make up del mese. Anche questo è il solito. Direi il più semplice possibile. Quindi semplice sugli occhi e semplice sulle labbra. A volte oso, come avete già visto, un rossetto acceso. E comunque rimanendo sempre semplice sugli occhi. 11. Pettinatura barra acconciatura del mese. Shignon. Lo porto a casa, lo porto fuori. È la mia acconciatura salva i capelli quando ho i capelli in disordine. Oppure non mi va di farmi lo shampoo prima di uscire, perché ci metto un sacco, mi faccio lo shignon e sono pronta. Smalto del mese. L'unica volta in cui ho messo lo smalto, ho messo questo qui. Che è il Colorengo di Essence ed è il numero nella tonalità 110 Modern Romance. È un rosa antico con una puntina di arancione. Risulta aranciato un pochino sulle unghie. Non so, aspettate, faccio prima a fare così. È questo. Comunque lo indosso nel video What's on my phone, che avete già visto, quindi se vi va andate a vederlo. Comunque ci sono anche gli swatch su Google, insomma, potete vederlo in ogni modo. 13. Parola esclamazione. Nessuna. Per quanto io parli, per quanto io sia logorroica, non mi viene in mente di aver detto una parola in particolare. Poi, figura di cacca. Per fortuna, neanche qui, nessuna. Non ne ho fatta nessuna questo mese. Sono stata molto brava e diligente. 15. Cosa più bella del mese. Qui, già lo so, a parte l'arrivo della primavera e del caldo, ma ho fatto la mia prima live. Come già saprete, per chi l'ha seguita, ho fatto la mia prima live. Potete andarla a rivedere sul mio canale e ne farò molte, molte altre. Cosa più brutta del mese. Beh, purtroppo, questo mese c'era una data in cui c'era una ricorrenza che mi rendeva molto felice, però non essendo più valida, mi ha reso il mese veramente triste. Quella giornata sono stata malissimo. Tra l'altro, è trascorsa... cioè, c'è stata proprio qualche giorno fa e sono stata molto male. Fatto del mese. Ve le metto qui, come al solito, con la canzone che vi dicevo prima in sottofondo. Ultima domanda, descrivi con una parola questo mese. Direi tra il tranquillo e il pieno di novità. Cioè, è stato tranquillo con qualche novità qui e lì, però non c'è un termine per dire questo concetto. Quindi direi tranquillo, ma con qualche guizzo di felicità, di novità, insomma. Questo è tutto per questo video, io spero che vi sia piaciuto. Andate a vedere quello di Giulia. Ti risaluto, ciao. E noi ci rivediamo nel prossimo video.